Il Movimento 5 Stelle di Teramo definisce assurda e pericolosissima la decisione della sindaco Maurizio Brucchi di riaprire alcuni impianti sportivi della città. Il consigliere comunale Fabio Berardini sottolinea che se oggi si inizia a parlare di sicurezza negli impianti sportivi è merito del Movimento 5 Stelle e che se il primo cittadino deciderà effettivamente di riaprire strutture dove non è mai stata fatta manutenzione e dove non ci sono le minime condizioni di sicurezza prescritte dalla legge sarà l'ennesima scelta assurda e pericolosissima di questa amministrazione. C'è un caos in questa questione visto che gli impianti sportivi sono stati chiusi dallo stesso comune proprio anche su segnalazione ai vigili del fuoco che hanno dichiarato quegli impianti fuori norma e quindi anche pericolosi per l'utilizzo e oggi invece il sindaco si sveglia dopo evidenti pressioni da parte di qualcuno con un'ordinanza con la quale si assume la responsabilità di riaprire queste strutture anche se non sono stati fatti i lavori di messa a norma e di messa in sicurezza di queste strutture. Noi pensiamo che anche dopo i gravi fatti accaduti a Pescara dove in una scuola che non aveva subito manutenzioni per anni come in questo caso delle nostre palestre è caduto un pezzo di soffitto addosso a dei bambini. Quindi noi pensiamo che un buon amministratore debba prima effettuare i lavori di cui noi abbiamo già segnalato come reperire i fondi regionali, prima effettuare i lavori e poi riaprire queste strutture al pubblico perché è veramente pericoloso far entrare e far utilizzare a dei bambini queste strutture totalmente fuori norma. Noi chiediamo innanzitutto che il sindaco dica quali lavori si dovranno fare e quali saranno le tempistiche anche perché i genitori hanno diritto di sapere in che strutture lasciano i propri figli e quali pericoli a cui vanno incontro. Questo è quello che chiederemo ma approfondiremo anche il fatto che in questi giorni alcuni studenti di alcune scuole limitrofe hanno utilizzato queste strutture senza riscaldamento e quindi dobbiamo vedere se è stata fatta la comunicazione da parte del comune di questa chiusura delle strutture ai presidi delle varie scuole perché è una situazione dal nostro punto di vista molto grave.